Domani si inaugura e io spero che sia un'ottima edizione, anche perché voglio ricordare che l'indotto che porta a questa mostra è un indotto importante, magari distante dalla percezione di molti venditi, però da visibilità al nostro territorio ci permette di comunicare e di far turismo e questo è quello che è bene sottolineare e dopo ovviamente a tutto quello che è la produzione artistica e la nuova produzione cinematografica che verrà comunque presentato durante questa mostra.